ciao ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi volevo recensirvi un nuovo prodotto a base di minoxidil al 5 per cento nei miei precedenti video ho recensito altri tipi di minoxidil kirkland foligine in questo caso eccolo qui e il rogan oggi volevo parlarvi del coogan il coogan è un prodotto che in italia non è commercializzato credo di essere l'unico ad averlo in italia questo è un prodotto che ho scoperto grazie ad un amico che vive a londra e che mi ha dato la possibilità di acquistarlo quindi ad un ottimo prezzo ad importarlo più che altro che cosa differisce rispetto al classico foligine rogan e kirkland allora la formulazione in primis la base è sempre minoxidil al 5 per cento però questo ha il vantaggio di avere un basso contenuto di alcol infatti qui c'è scritto lo non so se riuscite a leggere purtroppo c'è poca luce lo alcol il vantaggio è che asciuga molto in fretta cosa più importante è che questo prodotto è indicato particolarmente a quelle persone che hanno la cute particolarmente sensibile sensibile al minoxidil il classico minoxidil questo qui per chi soffre appunto di cute sensibile può creare pruriti desquamazioni rossuri questo qua diciamo che limita questi fenomeni dermatologici e quindi è particolarmente indicato e consigliato questo prodotto qui ha un basso costo quindi costa di meno rispetto a questo qua purtroppo questo qui pagate la marca però essenzialmente sono tutte e due di pari di pari efficaci questo è un prodotto che può essere utilizzato sia per uomo che per donna diciamo che per le donne è più indicato la formulazione al 2 per cento però nulla vieta l'applicazione anche al cinque per cento per quei casi più gravi e dove sempre su previa visita dermatologica il medico quindi non non considera l'applicazione anche al cinque per cento questo è un prodotto che è indicato per coloro che vogliono far ricrescere i capelli laddove sono quaduti laddove il capello diciamo si ricrescita risulta più fine e quindi meno visibile meno visibile ad occhio nudo il minoxidi quindi per vi permetterà laddove i follicoli non sono totalmente atrofizzati quindi dove non non nasce più il pelo man mano quindi col passare del tempo il capello con l'utilizzo del minoxi diventerà sempre più più doppio e quindi diventerà un vero e proprio un vero e proprio capello allora per avere i primi risultati occorrono da un minimo di tre mesi al massimo di sei mesi però io dico sempre nel anche negli altri miei precedenti video che il minoxi è un prodotto che una volta iniziato non bisogna più interrompere perché si rischia di perdere i risultati ottenuti allora ragazzi io con questo concludo per chi volesse acquistare il prodotto per chi fosse interessato al prodotto vi lascio il link in descrizione per acquistarlo se volete pormi delle domande sarò ben lieto di rispondervi iscrivetevi al mio canale se il video vi è piaciuto vi pregherei di lasciarmi un like e con questo io vi ringrazio e alla prossima ciao